Si parla di piano triennale delle opere pubbliche, ci sono delle novità, dei progetti che riguardano la politica della casa, la rigenerazione urbana, ma non sono. All'interno di questo piano triennale ci sono importanti richieste di finanziamenti che vanno di fatto a trasformare la città. Sono interventi della rigenerazione urbana, un intervento di 20 milioni di euro, dove è di fatto un nuovo piano strategico della città, perché riguarda tutte le parti della città, non solo il centro storico e la parte bassa, ma anche a riqualificare zone che sono periferiche rispetto alla città stessa. Oltre questo intervento della rigenerazione urbana sono previsti anche degli interventi per la creazione di un nuovo asilo nella parte bassa della città, ossia nel centro mediterraneo, e la riqualificazione e la ristrutturazione dell'asilo presente a Chieti Alta, a Via La Mendola. Oltre questi due interventi c'è anche la riqualificazione di un comparto degli alloggi ERP su Madone degli Angeli, quindi via De Platini. Quindi possiamo dire che è un piano triennale dove andiamo a creare una nuova visione della città, con queste richieste di finanziamenti per cambiare il passo e per dare una nuova visione alla città. I tempi? I tempi sono sempre leader amministrativi che riguardano tutte le procedure, sicuramente, e speriamo che in questi cinque anni daremo un cambiamento alla città, visto che fino adesso tutti i progetti che sono stati finanziati e cui hanno partecipato erano tutti interventi spot, ma non avevano un collegamento fra gli stessi interventi. Noi abbiamo pensato di fare un piano strategico con interventi collegati tra gli essi, rispettando le esigenze e i bisogni della città. A fine gennaio abbiamo approvato il piano programmatico di questa nuova amministrazione, dove abbiamo inserito un intero paragrafo che riguarda Chiti Scalo. Chiti Scalo è un nuovo centro città, quindi rilanciare questa parte del territorio credo che sia l'intervento più consistente mai realizzato nella storia della città, nella parte bassa. In pratica si sostanzia in due grandi progetti. Il primo riguarda la zona stazione ferroviaria, quindi realizzare un'area pedonale modulabile. Il secondo invece riguarda il quartiere cosiddetto Ina Casa, che è la sua via Pescasseroli, quindi riqualificare anche quell'area urbana. Questo vuol dire creare comunque due centri nella città. Il primo è l'intervento modulare che si trova all'interno della stazione ferroviaria, quindi le arterie sono a loro lati. E in pratica creare un'area pedonale la sera, durante la settimana, invece nel weekend un blocco totale del traffico per tutta la durata, quindi il sabato e la domenica.